La giornata si è aperta in modo piuttosto curioso, ovvero con una telefonata concordata al 118. La centrale di emergenza della protezione civile ha dunque inviato a San Paolo di Appiano tutta una serie di mezzi di soccorso e di addetti ai lavori dei vari corpi con i quali i bambini delle scuole elementari sono dunque venuti a contatto. Fattore inedito, gli alunni hanno avuto modo di incontrare contemporaneamente diverse realtà che andavano dall'Associazione Provinciale della Croce Bianca, alle unità cinofile dei carabinieri fino ai vigili del fuoco volontari e agli uomini del soccorso alpino. Il gruppo degli insegnanti di San Paolo ha deciso di organizzare questa giornata della protezione civile pensando di avvicinare le classi del paese alle varie realtà come carabinieri, polizia, croce bianca, unità cinofile che sul territorio intervengono in caso di necessità. Dopo un incontro preliminare con gli addetti ai lavori e una breve merenda, i bimbi accompagnati dai loro insegnanti hanno fatto tappa nelle varie stazioni allestite nel piazzale davanti all'istituto scolastico. Qui hanno seguito con attenzione le spiegazioni degli esperti che hanno illustrato ai bambini le varie tecniche di intervento, i materiali e i mezzi utilizzati per le operazioni di soccorso nei vari scenari dai corsi d'acqua alle pareti rocciose. Questo tipo di iniziativa secondo me è molto importante per far vedere già ai bambini che significato ha il soccorso e la protezione civile nella vita giornaliera. Iniziativa particolarmente importante non solo per i bimbi ma anche per i loro insegnanti. Certamente anche per noi ho avuto modo di sentire, di domandare, di ascoltare le domande dei ragazzi e sicuramente informazioni anche per noi nuove e interessanti.